Dialogo tra culture. La bellezza della differenza. Camminando per le strade delle città, sulle spiagge, nelle campagne e nei rifugi di montagna. Si incontrano spesso persone che arrivano da ogni parte del mondo. Sono uomini e donne che parlano un'altra lingua rispetto alla nostra. Che magari professano un'altra religione e che hanno modi di comportarsi. Di pensare e di mangiare diversi dai nostri. Sono persone forse solo di passaggio nel nostro paese. Oppure che abitano qui da tanto tempo. Ma che sono ancora legate alle loro tradizioni come noi lo siamo alle nostre. Anche nella tua scuola. E forse nella tua classe. Ci sono ragazzi le cui famiglie provengono da tanti paesi diversi. Questo fattore costituisce una grande opportunità. Vivendo l'esperienza scolastica potrai incontrare altre culture. Scoprire colori e sapori di cucine diverse. Come e che cosa si festeggia in altri paesi del mondo. Scoprire colori e sapori di cucine diverse.